Dal momento che la condivisione dei volumi è un argomento molto importante che è necessario comprendere bene Facciamo un altro esempio, questa volta utilizzeremo un host docker windows che però ci permetterà di eseguire container linux Quindi verifichiamo innanzitutto che docker sia in esecuzione, docker is running, tasto destro, switch to windows container Quindi se abbiamo la possibilità di switchare verso windows container vuol dire in questo momento possiamo eseguire container linux Utilizzeremo un'immagine Jenkins, giusto è un'immagine così che si presta bene per capire la condivisione dei volumi Ma ovviamente è solo un esempio, non è necessario utilizzare questa Effettuiamo il pooling dell'immagine con docker pool Jenkins, ci vorrà qualche minuto perché l'immagine non è piccolissima Insomma dimensioni abbastanza, saranno 5-600 megabyte quindi ci vorrà qualche minuto Io l'ho già scaricata, verifichiamo che in effetti sia così Quindi cmd, destro, esegui come amministratore, ok, docker image ls e come possiamo vedere l'immagine Jenkins è già presente Per cui procediamo, innanzitutto vediamo l'utilizzo di questa immagine, how to use this image Qui abbiamo dei comandi, quindi abbiamo le porte che si dovranno esporre, il mapping delle porte E qui poi abbiamo proprio l'esempio che fa il nostro caso, ovvero il fatto di poter quindi condividere il nostro volume Sulla home directory di Jenkins, per cui prendiamo questo comando e modifichiamolo un po' in base alle nostre esigenze Notepad, ctrl v, allora il comando è ok, dobbiamo dare un nome al volume, lo chiamiamo volume test Noi utilizzeremo direttamente, creeremo il volume direttamente con questo comando Non staremo a digitare il comando docker volume create eccetera, facciamo prima Altra cosa è che dobbiamo dare un nome a questo container, perché poi dovremo crearne un altro Per cui, meno p, meno p, spazio, meno meno name, lo chiamiamo Jenkins primo Per distinguerlo poi da Jenkins secondo Il comando mi sembra corretto, Jenkins è l'immagine, per cui ctrl c, torniamo qui, ctrl v, no Quindi torniamo, selezioniamo, destro, copia, incolla Il comando mi sembra corretto, Jenkins primo, volume test, che verrà creato in automatico Var Jenkins home, la directory di Jenkins, quindi invio Vediamo se tutto funziona correttamente Adesso ci vorrà qualche secondo per eseguirsi e soprattutto ci dovrà restituire la password di accesso Che con la password di accesso noi potremo poi accedere tramite browser alla configurazione di Jenkins Eccola qui, questa è la password di accesso, la copiamo, quindi modifica, copia, incolla E la incolliamo qui sotto, ci servirà A questo punto, teoricamente, dobbiamo da browser provare ad accedere sulla porta che abbiamo utilizzato Che è la 8080, quindi riduciamo l'icona Andiamo su localhost, localhost, sulla porta 8080 A questo punto invio e vediamo se il tutto funziona Ok, siamo in grado quindi di accedere tramite browser alla configurazione di Jenkins Dobbiamo inserire la password che abbiamo selezionato Continue E adesso qui noi, vabbè, faremo giusto un'installazione così Di una configurazione di prova, per cui non metteremo niente Andremo avanti e avanti e creeremo un job di test Quindi, seleziona install e suggestible in select to install Qui non ne vogliamo nessuno Install, qui ora creiamo l'utenza No, oppure continue as admin Ok, Jenkins ready Start using Jenkins A questo punto creiamo giusto un job Crea un nuovo job Lo chiamiamo job prova Ok A questo punto io non metterei niente Se è possibile Quindi apply Salva Ritorna al pannello di controllo E abbiamo creato il nostro job di prova Adesso vogliamo vedere se effettivamente possiamo condividere i volumi E se la condivisione dei volumi funziona Per cui questo lo lasciamo per il momento così Adesso apriamo un altro prompt dei comandi CMD Pronto dei comandi Esegui come amministratore Lanciamo nuovamente questo comando Ovviamente modificandolo un po' Quindi Il container si eseguirà sulla porta 8081 dell'host Sulla porta 500001 Nome non sarà più Jenkins primo Ma sarà Jenkins secondo Attenzione a mantenere il volume il solito Perché noi vogliamo verificare proprio questo Che la condivisione funzioni E la home directory la stessa Per cui vediamo se effettivamente Riusciamo a ritornare in questa situazione Ovvero avendo già un job di prova Anche sul secondo container La password mi aspetto che sia la stessa Perché i dati sono gli stessi Per cui adesso copio questo Ctrl C Lo incollo Ok Quindi direi invio Ok Sembra che abbia preso il comando Adesso quindi dobbiamo attendere qualche secondo E se tutto sta funzionando correttamente Jenkins is fully up and running Mi sembra di sì Proviamo Quindi adesso vado sul localhost Ma sulla porta 8081 Quindi ctrl C Ctrl V 8081 invio E vediamo se funziona Sembra di sì perché non ci chiede la configurazione iniziale Quindi vuol dire che ha già presente lui una configurazione Ad Admin Password è questa qui E se tutto è andato bene Ma mi sembra che già sia andato bene Perché ci fa Vediamo se ci fa accedere con le credenziali Già utilizzate sul Jenkins primo Mi sembra che sta andando bene Adesso se la condivisione del volume ha funzionato E sta funzionando Mi devo ritrovare job prova E infatti me lo ritrovo Quindi io mi ritrovo Sul localhost 8080 Ho creato job prova E me lo ritrovo anche su quest'altro Per cui Eccolo qua Job prova E quindi Altro esempio per dimostrare Come è utile E come utilizzare La condivisione dei volumi su Docker